Fira, vi dice qualcosa a sto titolo? No, non come fa a dirgli qualcosa, conosciamo solo noi Anzi, lo conosci solo tu, perché sei tu che l'hai trovato Io l'ho solo acquista, ci ho speso 10 euro, perché era in sconto del 10% E a me sembrava una merda A lui invece, cioè, non è che sembrasse, però ha detto Beh, c'è speranza C'è speranza, ha detto dai, sarà un bel gioco Una musichetta al piano Un tramonto Una Redhead, che però sta avanzatissima in alopecia Mi sembra di vedere contro luce Fira, la principessa guerrilla Fira, non le do una lira Beh, allora, qua parte una scommessa Una scommessa clandestina Abbiamo speso 10 euro Io scommetto che è una chiavica Io credo in Fira Cominciamo a scommettere Il team Redhead, team Synergo Sto già vincendo io, te lo dico Eh, mi sembra di sì Però ha copiato i font A What Remain of Edith Finch Dai, Fira 2 a 0 per me Principessa Guerrilla Azzowill Che cosa può andare male con Azzowill? Azzowill, che? Senti che bella musica La musica ha un punto a me, quindi siamo a 2 a 1 Partita troppo alta, non sento più niente Sto diventando sordo Dobbiamo urlare fra poco Guarda come balla È partito un violino sotto Guarda lei che mira il tra... Che sotto la pioggia Perché la pioggia spegne la fira Che bella scena Che brutti capelli Beh, però, è bella la scena Cioè non è... Magari ci sono lì fuori delle persone Che hanno perso i capelli E va bene Anch'io sto là fuori Però dai, lei non se li vuole tagliare Però Ha il naso storto Ma il modello non è male Gli occhi sfocati ma... Vedi che già qua ho ripreso un punto Questa è una scena molto bella Molto bella sta scena qua Guarda che carina che è Però basta Punto per me Ahah Che quanto fa schifo quella cosa Guarda lei è... Guarda quanto è triste Ma no ma è devastata Ha messo il filtro quello di... Lei è triste Lei ha avuto una vita di m***a La ragazza l'ha lasciata La mamma l'ha lasciata Il padre se n'è andato I capelli la stanno lasciando L'abbiamo appurato Non so dove sono Però ste rocce... Posso dire che il sistema di movimento è brutto? No ma lo vedo Lo vedi? Lo sento dal tempo che intercorre Dal momento del clac Però guarda che bella Questo tronco ha fatto dei glitch Quella statua ha una sciarpina rossa Esattamente come te È una statua di te? È una statua di me? Eh sì Va in tipose quando sali sulle cose Non salta Punto per me Eh dai però non è che ti puoi prendere i punti pure per questi... Allora che cosa mi devo prendere? Allora la prossima volta non vado a vedere come sono le interazioni con gli oggetti eh A un certo punto ho totalizzato molti punti perché ogni due secondi c'era una cacata Era impossibile Era impossibile vincere ma c'è speranza ragazzi fino alla fine c'è speranza Ma guarda quanto è devastata Guarda quanto è triste lei Vabbè ma inizia il gioco che lei si sta per buttare sotto Ti aspettavi che festeggiassi Inception Ok parlano di un innesto Innesto di che? Ah quando vai Beh questo è un punto in più Questo è una finestra Questo è una finestra Guarda c'è una luce Segui la luce Segui la luce Segui la luce L'isola è piena di modelli come il tuo Pietrificati E' un'ottima soluzione per non fare altri modelli questa qua eh Che cazzo devo fare? Destro, destro Sinistro Ah Ho preso il potere delle fiaglie Devi accendere l'altra cosa Vai Dov'è che abbiamo visto sta stessa meccanica uguale? Ma perché tutti Madonna è la musica Ah però Dai è chiaramente una cosa che devo appicciare no? Dai succhiava l'energia da quello Esatto Non lo so Sei lontano Non sei troppo lontano Però lei continua ad essere triste Sì Madonna però Madonna che è il vomito Ogni tanto devo vedere se è devastata Il vomito Loro pensano di avermi insegnato una tecnica Ma io non ho capito niente Però posso vedere da lì? Da qua sopra No Ci sono delle rocce imbaricabili No Imbaricabilissime Sì sì Guarda che bello Madonna madonna Ci sto riuscendo che ci sto riuscendo ma Stanno convivendo Le texture a bassa risoluzione E quella ad alta risoluzione Stanno Guarda Convivono Potevi farlo Era così intuibile Non ho capito perché non Non lo so È colpa mia È colpa mia Non del gioco Uuu Si è generato un ponticello Si attivano i ponti Capito? Sennò sono invaricabili Queste zone Quest'acqua è Da problemi Dio quanto mi dà fastidio Quando muovi l'inquadratura È qualcosa di atroce Eh Iam Per quello È bello Madò Che sorpresa Una statua della tua persona L'ho preso Bravissimo Chi l'ha preso? Io Io l'ho preso Cosa devo fare? Lo devo mettere lì? Eh sì Però Fira Eh Ma che cazzo Devi farlo? Comunque guarda Giocato da te Ho capito Ma che devo fare? Non da piante Che vuoi finire? Andrà Ma no Mi stai caldo Sono dove? Fuoco Lo metto di qua Dai fuoco a sta cascia di legno di m***a Qua solo E dai fuoco E dai, devo metterlo là Che gioco di m***a L'ho acceso però Adesso? Si ma che game design del c***o Che game design del c***o Guarda Si alza quel coso poi A cosa è legato Quell'attrezzo là? Questa però Non dà niente No? Come si fa a salire di su? Fira Ah ecco Sono cresciute le bamboline Ah Eh ma manca questa però Manca quella che fa riferimento A questo enigma qui Quindi non devi andare indietro Però se tu ne sai di più Dovresti giocare tu È tutto qua È tutto qua Ma come ci faccio A salire là sopra? Madonna i maroni Ufff Sta andando così da pure a te Eh? No Non lo so È talmente brutto Che non riesco a A sapere A capire Ma hai vinto che ho vinto la scommissione? Non hai vinto ancora niente Perché fira può dare ancora soddisfazione Si si Ma la valutazione degli utenti per sto gioco com'era? Piene di ginocchiate Ma forse quello Mannigia la putt Ma è tridandoli con il gioco Mi sa che qualcuno fa il reso oggi Il reso addirittura Lo compri tu se lo vuoi A un certo punto Mi sono sentito di avere la scommessa in tasca Perché siamo arrivati In una sezione Tra l'altro abbastanza presto Non è che ci abbiamo passato Sì Siamo arrivati in una sezione In cui Nicola sembrava Non riuscire Neanche ad applicare Sui soliti trucchi Ti spacca gioco Ti ingulo io Ci deve essere un punto di collisione Che non hai valutato Bastardo Era troppo inquadrato Troppo Avevamo proprio pensato A come non far rompere il gioco Più che a fare un gioco bello Il problema Non era Nicola Il problema era che In quella particolare sezione Doveva esserci un tutorial E c'era Ma nel punto sbagliato Scusa ma posso vedere se C'è qualcuno che No vedo se c'è qualcuno Che l'ha fatto st'enigma Perché Ma scusami ma è un genio questo Cioè ha un intelletto acuto Come ha fatto? Molto semplicemente Lui Scusate Scusate ragazzi Scusate Scusate Tu Che la prima cosa che fai Quando c'è un gioco davanti È provare se si salta Non salta Non so ma vai vicino allo scalino Vai salta mo' Ma non me l'ha detto Nessuno me l'ha spiegata Questa cosa Shift Oh no che tassi Nuo me lo dici che si fa Ma giù non l'hanno messo Giù non l'hanno messo Allucinante Io ci ho provato a essere positivo Dai state positivi Be positive Tutte quelle cagate Siate negativi dall'inizio alla fine Perché io Ho detto Vabbè dai Diamogli una speranza Fira Fira Povera Fira No ma Sai che Io penso di non aver mai visto in un gioco Una roba Un tutorial Sul salto Che devi raggiungere saltando Cioè lì c'è un tutorial su come si salta Ma per arrivare al tutorial su come si salta Devi saltare Era stupidissimo Comunque non è ancora finito Ci mette una settimana questa arrivante Abbiamo scoperto che si può salire la collina Se ci vedrai Guarda quanto ci mette Bene allora il gioco dell'anno Guarda lei quanto è contenta Ammo che è riuscita nel suo intento Guarda che bellina come sorride Però è meno devastata Dici? Si hanno fatto sta cosa Che man mano che vai avanti Lei è sempre un po' meno triste E tanta roba Fuoco verde Ah è un nuovo potere Ma facciamo a mano Bello Devi spostarlo Ma devo capire cosa devo spostarlo Quello verso la porta No Perché si fermerebbe qui Ma là dietro c'è È stato Sto mettendo veramente a dura prova Ragazzi una pesantezza No L'altra apriva un cancello Ma tu non Mi ammazza la gente Guarda Madonna quanto sei inquadrato Gioco di merda Non puoi saltare giù Cosa c***o toglie Cosa c***o toglie Oltre che la voglia di vivere Che cosa toglie Allora ti devi spostare Quella statua In modo tale Che tu da qui Puoi prenderle Il coso verde Così capisci cosa toglie Non comincio a rompere le cose Quanto sono messo bene Sto texter Che stai facendo? Non mi fa scendere E credo che sia questo il buco fotonico Capito? È lo stesso buco che guarda l'altra stata No? Sì Eh beh però No Non funziona come pensiamo noi Non è così Non funziona Allora è una m***a questo gioco Qui All'estremità Così così Ancora ancora Sotto sotto Perché? Forse c'è un modo di vederla Da qui Vaffan Cosa? L'hai preso L'hai preso Cosa? Cosa devo fare? Sì È fatta Tu non puoi fare un puzzle game Con questa musica pesante La vuoi mettere all'inizio Per contestualizzare Ma se lo fai mi uccidi Cioè Ma penso che uccidi tutti quelli che ci giocano Non si può andare Oltre a questo posto No eh No Su Torna giù Dai metti Sposta Che palle Porca putta Eh no Con pazienza però Esatto Ne me lo tiri là Si L'hai sbloccato Ragazzi Fateci sapere nei commenti Se volete che Redez No, 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 chiariamoci, chiariamoci, questo io adesso finisco di fare questo gameplay, lo disinstallo, no, 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 io lo ti conosco, io lo disinstallo per sempre, voi non lo vedrete mai più e non ci sarei manco da parlare, no, no. Allora ragazzi, ora vi faccio una proposta, Reddits lo porta su Relax, ma deve fare almeno 40.000 al gameplay, appena scendiamo sotto i 40.000 Reddits non ve lo porta. Nessuno, nessuno ci verrà, non ti preoccupare. Ma non devi sottovalutare? No, nessuno. Ti vuoi fare pure questo? No, no, io chiuderei per sempre. Allora ragazzi, adesso Reddits chiude per sempre, per quanto riguarda quei due sul gaming. Fateci sapere nei commenti se vi piacerebbe magari vederlo tornare su Fira in un altro momento con altre modalità. Stai disinstallando. Però non stai chiedendo il rimborso. Stai chiedendo il rimborso. Sono deluso. Vorrei chiedere il rimborso. Scegli il mezzo, però va bene. Scegli il motivo, non è divertente. Non è che non è divertente. È che proprio vuoi morire dentro quando ci giochi un gioco non dovrebbe farti morire dentro. Anzi, dovrebbe divertirti o almeno farti venire la voglia di continuare. Non dico fino alla fine, ma almeno un pochino. Ed ecco signori, la recensione più onesta che Reddits abbia mai fatto in vita sua. Grazie. E niente raga, a un certo punto Nicola ha detto stare qui tutta la notte a provare Fira, perché mi ha preso particolarmente a malincuore. Dobbiamo interrompere per motivi di tempo come di sì. Perdo. Perdo perché volevo essere positivo. Perdo perché ci ho provato almeno a dire un gioco indipendente che abbia un bel concert, che almeno ti faccia sperare che lì fuori c'è qualcuno che quando pubblica i giochi pensa a quello che fa. E invece no. Come si dice, a pensar male, spesso si pensa male. Fira.